Ben trovati a questo nuovo filmato. In questo filmato ci occuperemo degli sketch derivati, feature derivate. Cosa sono gli sketch derivati o feature derivate? Nella costruzione di un modello solido si procede con un primo schizzo, quindi un primo solido, e poi fatto questo primo sketch, questa prima feature, seguono una serie di altre feature. In questo esempio ce ne sono solo un'altra, un'estrusione. Questa estrusione 1 è uno sketch derivato o una feature derivata. Le feature derivate possono essere di due tipi. Un primo tipo è quello che già conosciamo per la feature di base, cioè selezione di un piano e schizzo su di un piano. Un piano che può essere il sistema di riferimento, un piano che può essere creato ad hoc partendo dal sistema di riferimento, quindi a parallelo piuttosto che due spigoli dell'oggetto, quello che è, insomma, tutte queste procedure. Un piano che può essere creato selezionando una superficie già presente, che si è già creata nell'oggetto, quindi questa superficie qui, per esempio, può essere un piano per costruire lo sketch. Quindi il primo tipo di sketch per le feature secondarie è lo sketch 2D costruito con un piano. Il secondo tipo di feature secondaria può essere una feature di tipo clicca e piazza, pick and place, per esempio un foro, clicco su un punto e lo piazzo in quel punto, piazzo un foro, piuttosto che un raccordo, clicco su uno spigolo e arrotondo questo spigolo raccordando due superfici. Quindi, diciamo, di tipo solito, un piano, o di tipo clicca e piazza. Clicca e piazza sono comandi di modifica del solito. Bene, adesso costruiamo, partiamo per capire, facciamo questo oggetto qui. Quindi partiamo, io ho già preparato il primo schizzo, apriamolo un attimo, verifichiamolo, vedete che è completamente vincolato e volevo solo farvi vedere una cosa. Se io accendo i vincoli, trovo... beh, le dimensioni sono molto poche, giusto? Sono solo quattro. Quindi che cosa avevo fatto? Ho usato tantissimi vincoli. Eccoli qua. Se per esempio questo sono paralleli queste due rette, vincolo di parallelismo, ma quello che è importante, quello che volevo far notare di più è il vincolo d'uguaglianza, questi due lati della L sono uguali e quindi ho esplicitato invece di mettere due quote, 22 e mettere una quota di qua, ho detto guarda che sono fra di loro uguali, quindi 22 uguale, anche questo è 22. Lo stesso dicasi per questo 4, questo è quello spessore 4 e questo lo spessore lì è 4. Quindi meno quote possibili, questo rende il disegno molto più robusto, lo schizzo molto più robusto e più vincoli, questi vincoli qui possibili. Beh, concludiamo, è completamente vincolato, concludiamo, facciamo la nostra base feature, la prima feature. Allora è una rivoluzione, si aprono due menu, il menu classico con il classico, diciamo, accorpamento dei comandi e un menu, questo menu qui rapido, il menu rapido, questo menu rapido non a tutti si può aprire, vi ricordo che se non lo vedete dovete andare qui, vista, interfaccia utente e mettere il flag su la barra degli strumenti mini. Adesso se io defleggo sparisce, quindi lo rimetterò. La barra degli strumenti mini è comparsa da relativamente poco tempo, però secondo me è più logica. Guardiamo, qui i comandi sono messi un po' qua un po' là, per esempio per sapere l'angolo sta qui, qui invece guardate, definisco prima l'angolo e ho tutte le varie opzioni, in questo momento l'azione è completa, da poi definisco il profilo e tra l'altro vedete che il marcato azzurro è quello che gli manca, cioè l'asse, perché lui l'angolo ce l'ha, il profilo ce l'ha, gli manca l'asse perché questo posso fare la rotazione attorno a questo asse o la rotazione attorno a questo asse. Dopodiché se vado avanti è un solido, già c'era pronto, ed è un nuovo solido, per forza di cose il primo, non ci sono altre possibilità. Quindi è già tutto quanto scritto, praticamente mi serve solo l'asse, qui non è così chiara, cioè non so, ok? Quindi asse, clicco e do l'ok. E il primo solido è fatto. Allora, adesso dobbiamo andare a fare la base feature è fatta, dobbiamo andare a fare la feature derivata, quindi siccome le misure sono contenute in questo disegno, apriamoci tutte e due finestre, due finestre dove teniamo da una parte il disegno finito, dove leggeremo le quote, anzi avremo già lo schizzo e dall'altra il disegno che dobbiamo fare. Allora, devo fare questo scasso che vedo qui, questo scasso qui e posso farlo per esempio andando su questo piano o andando su questo piano per costruire lo schizzo. Allora, avvia schizzo, scegliamo questo disegno, avvia schizzo, scegliamo questo piano e poi costruiamo il nostro scasso, più o meno. Ok. Cominciamo a imporre i nostri vincoli e poi andiamo sulle misure. Allora, lo devo posizionare, apriamolo, lo devo posizionare a distanza 6 dal centro, quindi io ho bisogno del centro. Per trovare il centro di questa circonferenza, chiaramente sullo schizzo in questo momento non c'è e devo usare la proiezione della geometria. Devo proiettare la geometria, posso proiettare questo cerchio più piccolo e lo faccio, quindi questo spigolo e vedete che il centro è lì disponibile. Allora, interrompo un attimo, una preghiera. Lo strumento proietta geometria è uno strumento usatissimo nelle feature derivate, nella feature di base no, perché non c'è geometria da proiettare, ma nelle derivate posso usare quello che ho già costruito e in qualche maniera andare avanti, per andare avanti. Quando però proietto posso fare due cose, posso proiettarlo come una linea, quindi questo cerchio, adesso lo vedete tratteggiato come una linea di costruzione, come ho fatto io in questo caso, o posso proiettare come una geometria effettiva, qui non mi serve, in altri passaggi poteva servirmi. Bene, fate in modo sempre che quando usate la geometria proiettandola sia geometria di costruzione, anche se quella geometria serve per lo schizzo nuovo, la feature derivata che state andando a costruire. Questo rende il disegno molto più robusto. Questo si cambia qui negli strumenti, opzioni, applicazione, schizzo. Allora, quando proiettate oggetti, proiettateli sempre come geometria di costruzione. Questo l'ho già detto in un precedente filmato, lo ribadisco, non ci torno più sopra. Adesso, qualunque volta, in qualsiasi caso, in qualsiasi cosa che continuerò a proiettare negli ulteriori disegni, sarà proiettata come geometria di costruzione. Benissimo, chiudi, torniamo al nostro schizzo, facciamo coincidere, facciamo coincidere il punto medio con il centro, diamo le nostre quote, la distanza è 6, e a occhio ci accorgiamo che c'è qualcosa che non quadra, lo scasso andrebbe molto più vicino al bordo di quello che è nel nostro oggetto. Nessun problema è voluto questo errore e avendo costruito lo schizzo in questa maniera, quindi proiettato la geometria come geometria di costruzione, cioè avendo reso lo schizzo molto robusto, anche se io adesso vado a cambiare qualcosa nella feature di base, vedrete che non succederà assolutamente niente. Quindi concludo il nostro schizzo, lo schizzo 2 della feature derivata, torniamo sulla, lo schizzo 1, andiamo a inquadrarlo, la stessa cosa facciamo di qua, schizzo 1, concludi anche qui, concludo lo schizzo, anche qui andiamo a inquadrare lo schizzo 1, leggiamoci le quote per scoprire che sono 30, questo 3 è giusto, quindi questo 30, lo cambiamo, adesso avete capito perché ho messo uguale? Si è aggiornato tutto con un colpo solo, invece di, se avessi messo due quote 30 e 30, adesso questa era rimasta 22 e dovevo andarmela a cambiare, se sono uguali, sfruttiamoli questi vincoli. Qui c'è qualche altra cosa, perché questo è largo 6 e anche qui ne cambio 1 e se ne cambiano 2, esc, torniamo di qua, clicchiamo sul 4, sulla quota, se riesco a prenderla, scriviamo che è 6, ecco qua, è tutto a posto, tutto a posto, concludi di qua, concludi schizzo, di qua concludi schizzo, questo lo andiamo a rinquadrare, il nostro oggetto di riferimento, questo dobbiamo ancora, andiamo a inquadrarlo anche lui, adesso vedete che lo schizzo, la feature secondaria è a distanza corretta dallo spigolo, quindi qui possiamo fare l'ulteriore passaggio, che è un'estrusione a tagliare, quindi questo qui, solido, estrudi, anche qui doppio menu, usiamo questo, allora estrudi, fino a, perché deve essere tutta, allora controlliamolo un attimo, io lo so, poi no, quindi giriamo, eccolo qua, vedete lo schizzo arriva fino in fondo, quindi torniamo di qua, fino a, non distanza, ma fino a faccia punto selezionato, andiamo a selezionare la nostra faccia, tocchiamola, è questa sotto, si aggiorna tutto correttamente, è uno schizzo a tagliare, è una estrusione, scusate, a tagliare, diamo l'ok e l'oggetto è finito, la seconda di feature è fatta. Per costruire la seconda feature derivata, questa estrusione, abbiamo usato nella nostra modellazione il comando appunto di estrusione e in particolar modo abbiamo usato l'estrusione a tagliare, questa estrusione con a tagliare, a sottrarre, è chiaramente un'estrusione che non è disponibile quando io faccio la prima feature, quindi diventa disponibile, come tante altre opzioni del comando estrusione, ma anche di tutti gli altri comandi, diventa disponibile quando sono sulle feature derivate. Allora, diamo un'occhiata a qualcosa, a tutto ciò che c'è di nuovo nel comando estrusione, quando si costruisce una feature derivata, cioè una seconda, una terza e così via feature. Allora, a tagliare l'abbiamo visto, qui ci sono qua 3 più 1, che cosa vuol dire? A unire, quindi io aggiungo questo oggetto, diciamo di cui ho costruito lo schizzo, lo aggiungo al mio solido. Questo lo faccio con il comando distanza, quindi io aggiungo, che ne so, un solido verso il basso, lungo 10, piuttosto che lo prendo e lo tiro, piuttosto che, adesso accontentiamoci così, quindi l'ho fatto di 60, è qualcosa che va fuori, non è quello che volevo, però per far capire unione. Ok, non sto nemmeno a confermare. Intersezione, interessante. Intersezione, vedete, il solido che creo con il comando di estrusione con altezza 60 è questo violetto. Questo violetto più scuro è il risultato dell'intersezione del solido completo creato con questo comando, violetto più chiaro, con la base feature, che è quella senza questo scasso, quindi dei due cilindri bucati. E quello che rimane dell'intersezione, al di là di questi comandi, di queste opzioni di distanza 60, se io do l'ok, è la parte comune, quindi il solido che è rimasto è l'intersezione dei due solidi che ho costruito. Poi posso fare anche un'altra bella cosa, per esempio posso creare un nuovo solido. Allora, in questo momento io ho un corpo solido solo, facciamolo questa volta con l'unisci, facciamolo con tutte e vediamo quello che succede, quindi io gli dico di fare un nuovo solido, eccolo qua, tutte, che va fino a lì, ok, viene creato questo nuovo corpo solido e dove lo vedo che viene creato? E' qui, eccolo qua, questo è il secondo solido, questo è il primo solido, se spengo il secondo solido ho la prima feature, se spengo il solido dovuto alla prima feature e riaccendo il secondo, eccolo qua, ho quello che è risultato dall'unione. Tra l'altro qui secondo me c'è una piccola gabola, perché lui mi fa solo questo pezzettino qui, in realtà doveva fare tutto il solido che ho fatto, è una gabola che secondo me andrebbe segnalata in vento. Comunque, andiamo avanti, quindi nuovo solido, corpi solidi, questo serve per fare le cosiddette parti multibody. Allora, ri-editiamo la seconda estrusione, rimettiamo a posto come sottrazione, e non multibody, no, questo non lo vogliamo, non è facile da togliere, eh, allora, tutte va bene, aggiungi, dovrebbe essere a posto, oh, perfetto, no, allora, ripristiniamo il primo solido, perché altrimenti non ce ne andiamo conto, dopo ritorniamo sull'estrusione, e vediamo se riusciamo a farla, non, perfetto, siamo tornati a un corpo solo, all'originario con lo scasso. Ci sono altre possibilità, allora, parentesi, cambiamo vista, siccome è quello che stiamo facendo è all'interno, creiamoci una vista, in semisezione, secondo il piano, questo piano qui, perfetto, quindi vista in semisezione, secondo il piano XY, a zero, va bene, coincidente con il piano fondamentale, qui vediamo la metà dell'oggetto, quindi con lo scasso, dovuto alla seconda lavorazione, riapriamo la seconda lavorazione, può essere interessante, dunque, manteniamo il taglio, vedere queste altre opzioni, e queste le guardo con il micromenu, allora, distanza, vabbè, qui devo scrivere quanto voglio di estrusione, se è a taglio, scrivo 60, porta via tutto, e di qua sotto non trovo niente, se scrivo 30 è giusto, se ne scrivo di meno, per esempio 20, faccio uno scasso, lungo, eccolo qua, senza che vada avanti, lungo una ventina di unità, millimetri, dalla superficie iniziale, quindi distanza, poi, dopo distanza, fino a faccia, corpo successivo, fino a faccia, corpo successivo, chiaramente la fa fino in fondo, perché il corpo successivo è questo, e va sulla faccia finale, qui posso stabilire anche le direzioni, chiaramente così non da nessun risultato, invece, verso il basso, ok, perfetto, perché poi si possono, è la stessa cosa che succede qui, che posso fare qui, se do l'ok adesso, in teoria, vedete, mi dice che non ha funzionato, non ha funzionato, mi dà un warning, perché mi dice che non ha modificato l'operazione, non ha terminato il corpo utensili, in modo che sia completamente definito il piano, nella parte di terminazione, quindi, diciamo, l'operazione era lasciata lì a metà, annulla, torniamo alla nostra estrusione, torniamo qui, fino a corpo successivo, fino a faccia, punto selezionato, questo può essere interessante, allora, parto da qui, e finisco qui, quindi faccio uno scasso, nel cilindro più piccolo, di diametro inferiore, nessuno scasso, nel cilindro di diametro superiore, andiamo ancora avanti, tra due facce e piani, anche questo può essere interessante, quindi tra, per dire, il piano sotto, attenzione, e il piano sopra, lo scasso, vedete, è solo qui sul cilindro di diametro maggiore, non viene fatto, pur essendo, è lo schizzo qui, non viene fatto nessuno scasso, nel cilindro di diametro minore, se io confermo, vedete, rimane scassato solo qua sotto, andiamo avanti, a vedere altre combinazioni, abbiamo quasi finito, allora, tra tutte le facce, questa è abbastanza comprensibile, taglia via tutto, ecco, questa è la simulazione, e l'ultimo, che può essere anche questo interessante, distanza da faccia piano, allora, distanza da faccia piano, selezionare un piano di lavoro, una faccia, un punto di specificare, dove finisce la lavorazione, finisce qui, e poi faccio una lavorazione di, che ne so, facciamola qui, 20, 15, in direzione, verso, verso il basso, in direzione, verso l'alto, anche in questo caso, anche in questo caso, in direzione 1, anche in questo caso, e do l'ok, in questo, anche qui per farvelo vedere, vedete, ho scassato, con quello schizzo, che stava su questo piano sopra, una parte all'interno del corpo, quindi diciamo che, i comandi, diciamo, il comando estrusione, permette una serie, di, di, possibilità, l'unica aperta, nel prima, nella feature iniziale, feature di base e distanza, nel momento in cui faccio feature derivate, si avranno tutte queste, possibilità, poi c'è la possibilità, di fare dei corpi multipli, dei multipodi, e vabbè, poi il resto, più o meno, il profilo sa da scegliere, ok, l'ultima cosa ancora, la rastremazione, allora, se io, ritorno all'estrusione, faccio un'estrusione a togliere, via, usiamola a distanza, quindi, da questa qui, in direzione, verso il basso, di 15 mm, a togliere, sul corpo solido, sul solido 1, o, in altro, oltre che, la soluzione alternativa, che in questo caso, è defleggata, la possibilità, di rastremare, che cosa vuol dire? Che se io, qui, gli dico, di rastremare, per esempio, per 5 gradi, per 10, perché voglio esagerare, ammesso che si, vedete quello che fa, parte, praticamente, fa una, piramide, a base rettangolare, dove, lo schizzo iniziale, è la faccia, più piccola, e poi, si apre, di 10 gradi, per una lunghezza, pari all'altezza, di 10, che era quella scelta, per l'estrusione, ok, quindi, 15, 15, scusate, 15, e qui c'è una rastremazione, di 10, qui non è molto chiaro, questo menu, comunque c'è una rastremazione di 10, una rastremazione di 5, che è più accettabile, non va a impicciare di là, se gli do l'ok, vedete ha fatto un foro, uno scasso, un po' particolare, perché, chiaramente, quella piramide a base rettangolare, è andata a incidere anche, e qui, la parete del foro cilindrico, in diametro minore, dell'oggetto, vabbè, c'è rimasta l'ultima cosa, da vedere, che è, quando c'è la soluzione alternativa, adesso per far questo, adesso qui, rimettiamo a posto, niente, l'astremazione, forma, ok, tutte, a sottrarre, ok, rimettiamo a posto il nostro oggetto, e vediamo, l'ultima opzione, che ripeto, è la forma alternativa, torniamo sul, discorso della soluzione minima, soluzione alternativa, soluzione minima, allora, l'estrusione è questa, quindi ho un piano, la seconda di feature, è su un piano, creata, creato parallelo, a un piano principale, principale, su questo piano, ho eseguito il secondo schizzo, per la seconda di feature, adesso voglio estrudere, questo cerchio, per un cilindro, che vada, o sulla superficie interna, o fino, alla superficie esterna, dalla parte opposta, del cilindro, quindi, si parla di soluzione minima, estrusione con l'opzione, soluzione minima, quando ci sono, anche, delle superfici curve, su cui, può finire, l'estrusione, allora, lanciamo il comando, di estrusione, orientiamo correttamente, altro, soluzione, dunque, innanzitutto, la soluzione minima, funziona, adesso qui, vediamo se riesco, a farvi vedere, questa estrusione con distanza, che cosa fa, eccola qua, vedete, non ci può andar bene, una roba del genere, perché poi, dobbiamo ritirare via, questa parte di materiale, quindi, si può fare, con i comandi, fino a, fino a seguente, distanza da faccia, e qui entra in gioco, quindi, to, between, e distanza da faccia, fino a, tra due piani, e distanza da faccia, entra in gioco, per questi, quindi, fino a, c'è la possibilità, della soluzione alternativa, come anche, tra, soluzione alternativa, attiva, vedete, e, l'ultima, è, distanza da faccia, in queste tre, possibilità, con superfici curve, ci fa comodo, allora, vediamo cosa fa, ho tolto le quote, dallo schizzo, e, ho creato una vista, in semi sezione, secondo, questo piano, in maniera, da poter vedere, l'estrusione, che effetti ha, e adesso, lanciamo, l'estrusione, quindi, andiamo, in, fino a, e, proviamo, a costruire, fino a, superficie interna, superficie esterna, superficie esterna, allora, superficie esterna, guardate, il fino a, adesso, che si ferma, sulla superficie esterna, è la soluzione minima, credo, già accesa, se tiro via, la soluzione minima, il fino a, eccolo qua, va a finire, sulla superficie, la superficie esterna, non si vede, un gran che bene, allora, sulla superficie interna, della parte fuori, dovrebbe essere così, anche se, non ne sono convinto, al 100%, perché vedo, la freccetta finale lì, però, abbiamo preso, la superficie esterna, sì, è giusto, va fino alla superficie, esterna, della faccia fuori, quindi diamo la nulla, ripetiamolo un attimo, allora, fino a, estrudi, fino a, quindi, la superficie esterna, soluzione minima, superficie esterna qui, soluzione non minima, superficie esterna fuori, adesso, inquadriamo bene, vedete dove sta la freccia, e quindi dove arriva, e quindi dove arriva ad estrudere, fino a, e più, quindi, la soluzione minima, è questa qui, quando ci sono, due possibilità di estrusione, la soluzione minima, c'è, è la prima volta, che incontra la superficie, la seconda volta, che incontra la superficie, questo, questo, ovviamente, ha bisogno di superficie curva, perché per superficie piane, questo non succede. Una precisazione sulla rastremazione, io qui ho preparato uno schizzo, con una base feature, schizzo 1, base feature, può diventare un cilindro estruso, se io vado a estruderlo, la rastremazione è disponibile, e quindi altro, è disponibile anche, nelle base feature, se qui metto il mio angolo di rastremazione, ottengo il mio bel tronco di cono, e quindi, diciamo, rastremare, mentre, avete visto, non è possibile, la soluzione minima, in quanto non ci sono superfici, su cui arrivare, anche tra i comandi di estrusione, c'è la distanza, e c'è fino a, tra e distanza da faccia, in realtà, poi quello che si usa sempre è distanza, perché fino a, ti chiede un piano, e vabbè, te lo devi essere fatto, ma non ha molto senso, fare una base feature, e prima fare dei piani di costruzione, stesso di che si tra, e distanza da faccia, implica delle facce, cioè dei piani, anche qui, non ci sono piani, perché normalmente, la base feature, si fa su uno dei tre piani, coordinati, principali, su uno dei tre piani principali, ok, chiusa la parentesi, sulla base feature, un'altra precisazione, questo lo mettiamo qui, apriamo questo disegno, già aperto, quando si tratta, c'è da fare degli schizzi, su piani, che hanno, della parte, delle parti dell'oggetto, che li nascondono, quindi, io devo fare uno schizzo, su questo piano, per fare una cavità, interna, e questo piano, sta all'interno dell'oggetto, si può ricorrere, allora, qui abbiamo già aperto lo schizzo, si può ricorrere a questo comando, lo attenzione, lo inquadro davanti, e in realtà, vedete, sul piano, lo faccio vedere meglio così, il piano si trova dietro, quello su cui sto costruendo lo schizzo, quello che posso fare, è quello di usare, questo comando qui, io F7, che taglia la grafica, fino alla, adesso attenzione, cambierà la forma, vedete, ha sezionato l'oggetto, e ha portato il piano di lavoro, lo capite meglio così, in primo piano, quindi, io posso fare il mio schizzo, tranquillamente, avendo, anche a disposizione, le altre geometrie, presenti sul piano, se queste, dovessero in qualche modo, servirmi. Un'altra cosa che si usa, insieme alla proiezione degli spigoli, è il comando di offset, allora, lo vediamo con questo esercizio, che ho preparato, il pezzo finale è questo, adesso non preoccupiamoci, del fatto che ci sembra, che esistano delle differenze, in realtà, questo pezzo è stato preparato, per l'offset, e per mostrare anche, che se si fa lo schizzo, in un certo modo, se si predispongono gli schizzi, in un certo modo, le modifiche, sono molto veloci, perché quando si usa l'offset, o meglio, quando si usa la proiezione, degli spigoli, già esistenti, per fare le feature secondarie, si può correre nell'errore, lo ripeto, perché l'ho già detto, di proiettare gli spigoli, come oggetti, del nuovo schizzo, no, bisogna proiettare gli spigoli, come linee di riferimento, del nuovo schizzo, e lo vedremo, appunto, nel secondo step, di questo esercizio, comunque, andiamo con ordine, e cominciamo a costruire, questa asola, che c'è, che peraltro, è anche, del tutto vuota, quindi dovremo anche, svuotare l'oggetto, cominciamo a costruire, questa asola, allora, ok, andiamo a leggerci, le misure, e ne troviamo, una sola, qui abbiamo già, tutti i vincoli presenti, troviamo solo, il 3,15, cosa vuol dire, che questo spigolo, sta distante, tra i 15, anche questa circonferenza, vedete, il riferimento, se io la tocco, il riferimento, è un pezzo, una proiezione, del contorno, della prima, delle feature, già esistenti, allora, andiamo qui, inquadriamo l'oggetto, facciamo il nostro schizzo, chiaramente, sarà uno schizzo, su questa superficie, avvia schizzo, scegliamo la superficie, per prima cosa, dopo aver fatto lo schizzo, proiettiamo la geometria, quello che ci serve, è questo, spigolo, allora, qui c'è la possibilità, di prendere lo spigolo, tutto il contorno, eccolo qua, io vado per lo spigolo, quindi, spigolo, spigolo, e spigolo, e vedete, che ho messo, tutte le linee di costruzione, perché questa, è una linea, di costruzione, spigolo, linea chiusa, linea chiusa, spigolo, questo, curva, è questa qui, eccola qua, la chiama curva, perfetto, primo step fatto, adesso facciamo l'offset, a distanza, 3,15, quindi, l'offset di questo, e la prese, vedete, ha preso con, tutte e tre le linee, avendo, selezionato, questa linea qui, lui ha capito, da solo, che erano anche, gli altri due, le altre due curve, da prendere, e qui scrivo, 3,15, se non, ve le prende, tutte e tre, si tratta, di andare a cliccare, 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 poi, mettiamoci, in vista piana, per completare, lo schizzo, dobbiamo costruire, questa parte qui, adesso, non vi fate fregare, dalle dimensioni, perché poi, ripeto, c'è la seconda, anche qui è sbagliato, quindi, costruiamo, la nostra linea, di chiusura, diamogli, i suoi punti, finali, quindi, questo, e imponiamo, il vincolo, di tangenza, quindi, vedete che, con pochissimi, passaggi, io faccio, lo schizzo, completamente vincolato, quindi, pronto per essere, estruso, del contorno, e dovrebbe essere, questo, il contorno esterno, concludi, schizzo, oppure, passiamo di qua, andiamo a, chiudere, questo schizzo, vediamo un attimo, sì, schizzo 3, un centimetro, un millimetro, di rientro, quindi, facciamo anche, la figura, lo scasso, la figura dello scasso, e quindi, anche qui, facciamo, un offset, offset, tutto, mi sposto, tasto destro, ho tutte queste opzioni, me ne prego, vincolo l'offset, 1, perfetto, anche questo, è completamente, vincolato, questo schizzo, è completamente, vincolato, e lo useremo, e per fare, il pieno, iniziale, e per fare, lo svuotamento, finale, quindi, concludi schizzo, mettiamoci, in questa situazione, e cominciamo, a fare il pieno, allora, qui, è un'estrusione, in altezza, vediamo, di quanto, 7 mm, e quindi, facciamo, un'estrusione, in altezza, estrudi, a cancel, andiamo di qua, estrudi, 7, quindi, sia questa parte, sia questa parte, con il tasto di controllo, ho selezionato, tutti e due, i profili, e li ho estrusi, tutti e due, e li estrudo, di 7, perfetto, adesso, devo fare, lo scasso interno, per fare, lo scasso interno, lo schizzo, ce l'ho già, perché ce l'ho qua dentro, e la, se lo riapro, è questa parte qui, che va schizzata, ovviamente, se adesso, io lancio, concludi schizzo, se io lancio, un comando di estrusione, lui mi dice, ma mi serve uno schizzo, perché, non ci ha esposto, nessuno schizzo, cioè, tutti gli schizzi, fatti da adesso, fino adesso, sono impegnati, per cui, quello che devo fare, è semplicemente, prendere questo schizzo 2, dove c'ho l'altra parte, e condividerlo, questo me lo riporta, nell'albero esterno, e se adesso, io vado a fare, un'estrusione, lui sa, che deve andare a prendere, lo schizzo 2, per poter lavorare, nello schizzo 2, faccio un'estrusione, differente, o uguale, fate come volete, da tutte e due le parti, e vado a prendere, la figura interna, e a questo punto, faccio 30, vediamo se bastano, ok, siccome è un'estrusione, a tagliare, mi va benissimo, che vada fuori, e do l'ok, solo che devo dargli l'ok, devo dargli anche, l'istruzione che sia a tagliare, modifica, lavorazione, ok, di 30, perfetto, il mio oggetto, è finito, finito, per quello che riguarda, la parte dell'esercizio, vedete, svuotato, eccetera, adesso, l'ultimo passaggio, quello per cui, per cui mi ero costruito, un oggetto, un po' diverso, allora, se io vado a prendere, questo schizzo qui, andiamo, schizzo 1, ok, leggo, un raggio di 10, se vado qui, e guardo, lo schizzo 1, leggo, un raggio di 6, allora, ho usato pochissime, ho usato pochissime quote, e tantissimi vincoli, e questo, e anche quando ho proiettato, ho proiettato in linee di costruzione, non ho proiettato su spigoli dell'oggetto, quando ho fatto lo scasso, ho proiettato delle linee di costruzione, e poi, ho fatto degli offset, da quelle linee di costruzione, non quelle che, ho proiettato, non le ho lasciate oggetti, le ho lasciate, le ho fatte in linee di costruzione, perché io quando proietto, sempre utilizzo questo sistema, quindi vuol dire che lo schizzo è piuttosto robusto, e qui c'è un raggio differente, allora, un raggio differente è addirittura uno schizzo 1 dell'oggetto, proviamo a vedere se succede qualcosa, se prendo questo 6, e gli dico che è 10, guardate, questo schizzo si è corretto senza colpo ferire, e l'oggetto si è corretto tutto, adesso qui c'ho uno schizzo visibile, lo spengo, e l'oggetto è esattamente quello che volevo, quindi anche una modifica fatta su un quinto schizzo, lo ha fatto sul primo, da cui sono stati derivati altri 4 feature, se tutto il processo di costruzione è fatto in un certo modo, è robusto, e qui ancora di nuovo questa parola, modificare qualcosa all'inizio e vederselo portato dappertutto, perché vedete che poi ha anche sistemato le dimensioni di questo, chiaramente avendo fatto questo diametro da 10, e questo raggio da 10 prima era 6, questo è diventato, non dico il doppio, ma quasi, ma si è aggiornato tutto, ma ha solo mantenuto quel 3, 15, che quello era, e quello è rimasto, tutto il resto, queste dimensioni, se avessi quotato le dimensioni dell'asola, adesso ero dietro, e continuare a modificare, schizzi robusti e modifiche, che si trasmettono lungo tutto l'oggetto, senza dare nessun problema, bene, con questo abbiamo chiuso anche questo filmato, buon lavoro, eventualmente i disegni potete richiederli, come al solito, iscrivetevi al canale, e mettete un bel like, se anche questo filmato vi è piaciuto, alla prossima! Grazie!